Sarava prendere la rincorsa quasi come se fosse Ronaldo, in questo caso parte Nunzella, la rete, la Virtus, è in vantaggio, Virtus in vantaggio al ventitresimo, Leonardo Nunzella, ma che gol ha fatto Nunzella? Un gol su punizione alla Pirlo, da 30 metri, col palone a giro che supera la barriera, la prodezza balistica di Leonardo Nunzella in casa del Siracusa e valza tre punti d'oro per la squadra di Mr. Trocini e il quarto successo in campionato lontano dalle Muramiche. Già contro la Vibonese Nunzella era stato determinante su calcio piazzato, in quel caso fornendo un assist al bacio su corner per Folo Ruscio. Lui ci scherza, ma ha trovato la forma migliore e ha una dedica tutta particolare per questo gol bellissimo. Gliela dovevo al presso, a Donatiello, perché gli avevo fatto il torto un anno fa contro la sua Inter, quindi gliela dovevo, oltre che a chi mi è stato vicino nel periodo in cui è difficile che sono stato fermo. Spiegacela questa cosa del torto al vicepresidente, perché hai giocato un Inter for the 9. L'Inter for the 9, contro la sua Inter con il for the 9 l'abbiamo fatto bene e l'abbiamo fatto soffrire e mi aveva chiesto questo piacere, dovevo ricambiare. L'avevi pensata subito per farla passare sopra la barriera, che non era facile, soprattutto non era facile farla passare sulla barriera e lasciargli quella forza al pallone. Siccome ero tanto lontano la palla ha avuto il tempo di abbassarsi, quindi sono stato anche fortunato. Sei arrivato a Francavilla, sei arrivato benissimo. Già a Rieti facessi la prima partita da titolare, giocando dall'inizio, e da lì poi praticamente non hai più lasciato il campo. Hai mostrato non solo le tue qualità, ma anche di essere in un buonissimo stato di forma, segno che sicuramente ti era allenato. Dall'inizio con la condizione ho fatto un po' di fatica, però con le partite, col passare dei minuti ho ritrovato la gamba, adesso sto bene. Stiamo lavorando tanto anche col prof, col mister. Stiamo lavorando tanto anche con la condizione ho fatto un po' di fatica, ma anche con la condizione ho fatto un po' di fatica.